Buonasera e bentornati in questo nuovo video. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare il like e attivare la campanellina per essere sempre aggiornati. Adesso andiamo ad analizzare la fine di gennaio. Cominciamo nel dire che adesso avremo una breve tregua che però durerà veramente poco. Infatti torneranno così le perturbazioni atlantiche che gradualmente coinvolgeranno l'Italia. Nel weekend del 23-24 gennaio è probabile appunto l'affondo di nuove massime di origine artica in Europa e che probabilmente se venisse confermato potrebbe coinvolgere anche l'Italia. Infatti passeremo l'ultima parte del mese di gennaio con precipitazioni frequenti, con navigate a tratti anche a basse quote se non ritenuta soprattutto sulle regioni settentrionali. Quindi questo qua è un incoraggiamento che l'inverno non è finito. Avremo ancora moltissime sorprese. Già ne abbiamo avuto oggi qualcuno visto che qui da me a Roma ha fioccato. Quindi diciamo una bella sorpresa. Per ora è tutto e noi ci vediamo al prossimo appuntamento meteo. Alla prossima! Per ora è tutto e noi ci vediamo al prossimo appuntamento meteo. Alla prossima!